Prova di script in Vircadia Aggiungere un suono ad un oggetto Questo è un modello di Dodecaedro Nel Dodecaedro ho aggiunto lo script andando in Create Vedete Dodecaedro, la finestra E questo script l'ho aggiunto con un link Chiudo E vediamo se funziona Ecco, ha funzionato, riproviamo ancora Ciao Ciao